ciao ragazzi grazie 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 di essere qui con me oggi oggi per la gioia di molti 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 posticini un nuovo video challenge se ti addormenti perdi adesso alzerò un pochino il tono di voce per proprio durante il corso del video riabbassarlo a questo tono e poi abbassarlo un pochino ancora 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 ok quindi vado un po' su col tono e questo si chiamerà soft spoken ok allora benvenuti in questa nuova challenge appunto in cosa consiste? per chi fosse nuovo sul mio canale in questo video ti sfido a non addormentarti e se ti addormenterai perderai ma vingerai anche quindi sequilibri un po' sequilibri un po' e questo video è caratterizzato da per prima cosa una rimozione di pensieri anche perché oggi è lunedì se lo stai guardando in diretta appena uscito ed è un lunedì dopo il punto quindi è ancora un pochino più difficile rispetto agli altri noi lì quindi sicuramente avremo bisogno di un pochino di coccole in più per superare la giornata per superare la giornata e per andare a letto con serenità poi ho due suoni bellissimi uno di questi uno di questi bello spoiler e l'ho fatto molto molto poco sul mio canale pronti? lo so è bellissimo e un altro lo tengo come sorpresa e infine ti offrirò una tisana e farò un countdown finale un conto alla rovescia per farti definitivamente chiudere gli occhi quindi cominciamo subito con un po' di rimozione dei pensieri negativi ok? io voglio che tu adesso ti metta in una posizione comoda rilassa intanto le spalle che sono la zona in cui più si accumula la fatica durante la giornata il collo le spalle sono in cui i muscoli reggono tutta la nostra vita durante la giornata e che vanno rilassati la sera quindi metti magari un cucino sotto la testa o comunque metti in una posizione comoda se vuoi chiudi gli occhi o se vuoi tirli aperti indosso le cuffie prendi una coperta una tisana ciò che vuoi e preparati ad addormentarti io vedo che ok qui prendiamo le forbici un attimo per tagliare ancora di più tutti i pensieri che non ci vogliono abbandonare la sera ma che devono abbandonarci ecco qua e adesso non so se per te è stata una giornata impegnativa o meno non so come sia andato il ponte per me è stato molto rilassante è stato un momento per prendermi cura di me e delle persone che mi stanno accanto è stato anche un momento per festeggiare per me però non ti preoccupare invece se oggi hai avuto una giornata no non c'è nulla di male non c'è nulla di male capita a tutti ma ma domani è un altro giorno domani è un altro giorno domani è un altro giorno dormire bene bene fare un buon riposo è una cosa che aiuta a iniziare bene la giornata successiva quindi liberati di tutto ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua non ti preoccupare la vita di nessuno è perfetta ci sono dei giorni più belli dei giorni meno belli ma tutti devono essere vissuti al meglio e soprattutto tutti devono avere una degna fine quindi io spero davvero che adesso stia già meglio però ho tanto tempo ancora per farti chiudere 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 gli occhi ok passiamo dunque al primo trigger che vi ho spoilerato questo questo dolcissimo questo dolcissimo cactus e questo cactus mi piace perché ricordo un po' il rumore dell'acqua sentite e non mi preoccupate per me non mi faccio male sono cactus piccolini e gli aggetti sono abbastanza morbidi e poi io li sfioro veramente veramente e veramente bello notare come perché ogni cactus, in base alla sua altezza, alla sua dimensione, crei un suono diverso dall'altro voglio provare anche una cosa che non mi era venuta in mente ragazzi, ma il suono di quando si stacca? Choccata? Ok, quindi alla prossima Ok, let's go. Dedichiamoci un pochino sulle cartole in generale. Ok, let's go. Mettiamo questo piccolino. Ok, let's go. Ok. 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 e voglio assolutamente portarlo sul canale è quello di questi stessi giornalini ma bagnati e poi riasciugati che sono tutti sono tutti gli altri sono super scricchionati quindi e un pezzo Questi sono. si piccoli scritti e 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 spero che anche come trigger visivo vi piaccia mi piace molto questo questo è in quadratura e e e Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso, io spero davvero che voi state già dormendo, però nel caso non fosse così, ho una tisana da offrirvi per conciliare il sonno. La tisana di oggi si chiama Mille e una Notte. E come si capisce anche dalla confezione, all'interno dell'aranza e in generale delle spezie, questo penso sia un gelsomino e della cannella. Questo non lo so, in realtà, questo è sicuramente cannella. Quindi andiamo a vedere gli ingredienti. Sperando che non siano scritti in tedesco. Qui dice caratteristica, caratteristici ingredienti orientali, questo è il Medio Oriente. Come la cannella, lo zenzero, il cardamomo. Sono ragchiusi, questo infuse insieme all'aroma delicato della vaniglia. Ah, era un piere di vaniglia. E' il tocco profumato dell'aranza. E' una tisana, definirei, quasi piccante. Non saprei come dire, molto, molto spezzata. E' veramente buona, secondo me. Allora, ingredienti. Spezia come cannella, zenzero, cardamomo, pepe nero. Ve l'ho detto che è piccante. Chiodi di carofano e estratto di vaniglia, 1%. Radici di cicori, aroma di arancia e cannella, aroma di vaniglia, di guirizio e scorza d'arancia. E la bustina è questa qui. E spero davvero che la mia proposta ti possa piacere. Ora passiamo ancora di più il tono di voce. Fino a dovremmo fare quasi a un inaudible. E adesso, prima di mandarmi la buonanotte, voglio fare un catamore, un conto alla rovescia da 30 a 0. Quindi, bello, 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 bello. E voglio aiutarmi anche a partire gli occhi. questo pennello. Quindi, cominciamo. 30 a 0. 30 a 0. 29 a 0. 28 a 0. 28 a 0. 27 a 0. 26 a 0. 25 a 0. 28 a 0. 28 a 0. 26 a 0. 27 a 09. 28 a 0. 26 a 0. 8 17 16 15 14 13 12 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 0 3 4 6 7 7 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 14 14 15 15 15 15 16 17 15 15 15 16 16 16 17 17 18 buona snotte, tutto svegliere buon'nui buon'nui good night buona notte pasticci buona notte pasticci buona notte buona notte buona notte che li spero